Come si pronunciano gli otto passi della Stanga Yoga di Maharishi Patanjali? Carissimi, sono Sanghita Laura Biagi e questo è un video di pronuncia su questi otto passi, soprattutto per noi italiani che molto spesso li leggiamo questi termini ma non siamo veramente sicuri di come pronunciarli e soprattutto se siamo insegnanti di yoga non sappiamo come fare. Allora ecco qua, condivido qui questa immagine e questa esplorazione del suono segue un mio precedente video di come si pronunciano i suoni, i fonemi dell'alfabeto sanscrito, quindi quella è un video molto utile, sto vedendo che interessa a molti di voi e quindi ho deciso di continuare magari a dare delle pillole di pronuncia così, d'accordo? Allora questa immagine innanzitutto, come vedete, è presa da resanscript.com e quindi ha loro tutto il credito di aver creato questa immagine. Questo video non è a scopo di lucro, quindi io non la sto usando per guadagnare soldi in nessun modo, per cui non ci dovrebbero essere problemi. Ok, allora innanzitutto vediamo che questa immagine è costruita attorno all'idea del chakra, cioè di questa ruota del Sanatana Dharma, o comunque una ruota nella quale questi otto passi, otto punti di vista, o otto angoli della Shtanga Yoga, le Maharishi Patanjali, vengono messi in una sequenza che va in senso orario. Quindi vediamo il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, il ottavo, dove poi qui sono anche indicati gli Yama e Niyama, che sono cinque e cinque. Per gli Yama e Niyama faremo un video a parte. Allora, come abbiamo visto la scorsa volta, per quanto riguarda i fonemi del sanscrito, ci sono dei suoni corti e dei suoni lunghi. Qui ne vedremo di due tipi, ne vedremo quelli corti e quelli lunghi. Per esempio il primo, Yama, 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 sono tutte e due corti, sono corti tutte e due, quindi Yama, Yama, quindi non è Yama, o Niyama, ma è Yama, Niyama, 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 corti Yama, 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 Niyama, Niyama, questa è una N, questa è una I, Niyama, corti, corti è anche un po' chiusa, sentite Niyama, Niyama, alcuni danno anche un accento, la mia maestra Devasena Vavanani dà un accentino in fondo, Yama, Niyama, dà un accentino un po' in alto così, lei viene dal Tamil Nadu, quindi c'ha anche poi questa inflessione che viene da questo stato nel sud dell'India. Poi, andiamo avanti, qui invece abbiamo una A lunga, allora perché è lunga? Perché c'è questa sticella lunga così verticale che fa capire che questa A è lunga, siccome è lunga l'accento va qui, asana, quindi non è asana, non è asana, con la Z, è una S, sa, sa, non sa, quindi diventa asana o asana, insomma l'accento in fondo dipende da voi, però comunque asana, 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 non è asana o asana, questa non è lunga, quindi è corta, asana. Poi abbiamo qui, qui abbiamo P, questa è una P, con questa sticella diventa pr, siccome c'è una sticella verticale, quindi ci fa capire che è una A lunga, diventa pr, infatti vedete nella traslitterazione quando la A è lunga abbiamo un accento, un accento orizzontale sulla A, quindi di nuovo pr. Questa N è una N retroflessa cerebrale, quindi non è una N come quella italiana, la N normale, N, anche Ganesha ha una N così. Allora nel video sull'alfabeto sanscrito che vi copio nel commento sotto, almeno lo guardate, questa N come si fa? Si fa, si chiama retroflessa perché la punta della lingua si va indietro, N, N, allora la potete sia portare indietro ed appoggiarla sul palato duro, N, oppure girarla, N, a me piace girarla. Comunque è dal palato duro, cioè da questo sicino che sentite, sopra l'attaccatura dei denti, molto sopra, poi se continuate con la lingua indietro sentite c'è il palato molle, quindi proprio lì, N, 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 quindi pr, N, allora la seconda, questa N è anche lunga, quindi pr, N, lunga, pr, N, anche la terza è lunga, a differenza di questa, vedete, questa non è lunga, infatti c'è solo la I, che è una semivocale, I, e invece questa è I, vedete che è lunga, che c'è un'altra sticella qui che vuol dire che è lunga, quindi mentre questa è I, I, questa è Prana, I, I, am, però ma no, ma non è lunga, quindi Prana, I am, Prana, I am, Poi abbiamo di nuovo Pr, stessa, vedete, Pr, anche qui Pr, Pr, però qui che cosa succede? Qui c'è la T, che c'è rimasto solo questo pezzettino perché si combina con la semivocale Ia, lunga, diventa Pr, Pr, Ti, A, lunga, A, poi c'è una H, lunga, H, e poi c'è una R, che è corta, quindi Pr, corta, Pr, Ti, A, R, Pr, Ti, A, R, ok, andiamo avanti, qui abbiamo una D, D, allora per fare questi suoni, perché ce li abbiamo qui, in questi tre, ce li abbiamo in tutte e tre, questo suono di D, ce li abbiamo in D, R, N, D, A, R, N, e in Samadhi, questa D, D, come si fa? Allora la H va praticata prima da sola, H, H, a seconda della vocale che la segue, quindi H, qui è Khi, perché è Kiana, e qui è Khi un'altra volta, noi non facciamo differenza tra la H della I o la H della I, come Ia, cioè una I per noi, quindi proviamo H, 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 A questa proviamo ad aggiungere la D, 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 H con la D, 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 proviamo, la A che segue è lunga, vedete, c'è uno strattino lungo, quindi è D, 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 poi abbiamo una R normale, cioè non lunga, R, e poi abbiamo la N, questa N è la stessa di Pranayama, la stessa di Prana, di Ganesha, quindi viene Dharna, 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 lunga, lunga, invece Dhyana, Dhyana, lunga, Dhyana, lunga, N, corta, N normale, Dhyana, Dhyana, non Dhyana, E l'ultima, l'ultima, S, S, M, lunga, vedete, questo è M, M, corta, Y, M, questa è lunga, c'è uno strattino in più, M, quindi questo è Y, M, questo è Samadhi, Samadhi, ok, quindi proviamo a ripeterle insieme, vi lascio uno spazio per ripeterle con me, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharna, Dhyana, Samadhi, d'accordo? Spero che vi sia piaciuto, praticate, andate a vedere l'altro video e condividete, un bacio, Namaskara!